a questo pure sono quello allora ci stai te vieni qua erika allora guarda questo questo lo che ti piace si ok no 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 questo no allora erika questo abbiamo appena chiesto che cos'è pesce gatto affumicato scusa buon anno dillo più scandito più forte pesce gatto affumicato pesce gatto affumicato scusa io non ti inquadro mi confermi che cos'è questo pesce gatto pubblicato pesce gatto affumicato quanto costa questo qui cinque cinque ore paese tuo quanto costa neanche un euro e come come io compro uno di questo come lo cucino questo nigeria tu non lo sai come posso cucinare questo c'è ma che mi stai fa ombre si si capisce questo scusami è molto interessante questo fermati questo praticamente sarebbe la testa arricciato così come se sarebbe un gambero è ficcato dentro uno spiedino buon anno molto interessante giurassica per voi ciao